Ascolta il Padre tuo che è dentro di te. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, 1 fino al 18. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Amè. Carissimi, oggi iniziamo il capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo. Siamo sempre nel primo dei cinque grandi discorsi dell'Evangelista Matteo. il discorso evangelico, un discorso dove Gesù sul monte dà la nuova legge. In questa nuova legge c'è anche una attitudine fondamentale per noi cristiani e Gesù la dimostra in tre sezioni elemosina, preghiera e digiuno. Ci sono dei luoghi comuni, ci sono dei denominatori comuni in tutti questi aspetti di fede, di preghiera che erano rispettati secondo la legge di Mosè ma da alcune persone quali in particolar modo i scribi e i farisei venivano effettuate, venivano attuate in un modo superficiale. Anzi, come Gesù più spesso lo ha detto e lo ripeterà in un modo ipocrita. Che cos'è l'ipocrisia? L'ipocrisia viene dalla parola greca ipocrites che a sua volta viene dal verbo ipocrizo. un verbo addirittura usuale nel teatro greco quindi nella recita cioè significa recitare fingere, mettere in scena. Ecco che si può fare l'elemosina con una maschera cioè l'obiettivo non è aiutare gli altri credere nella promessa di Dio che mi benedirà e abbonderà nella mia vita perché io faccio l'elemosina ma l'obiettivo può diventare farmi vedere vi dico quanto ho pagato quanto ho dato per essere elevato innalzato. Ecco che questa elemosina diventa ipocrisia. La preghiera è la stessa cosa dice non fatevi vedere pregare attenzione perché qui non stiamo parlando di una spiritualità non stiamo parlando di un atteggiamento che può essere con le mani aperte con le mani giunte di una forma stiamo parlando di un cuore malato malato di protagonismo dove vuole farsi vedere che sta pregando ed essere ammirato diverso è un cuore gioioso nel Signore che prega liberamente non per essere ammirati ma perché innamorato di Gesù questo ci tendo a dirlo rifugiamo dalla ipocrisia il digiuno anche se noi non abbiamo tanta esperienza nella società di oggi perché più ci sono diete più che digiuni di preghiera ma anche in questo atteggiamento di fede non digiuniamo per farci vedere ma perché crediamo nell'efficacia del digiuno un altro denominatore comune accanto a questa maschera che è l'ipocrisia che Gesù dice abbandonatela non la dovete avere negli atteggiamenti di fede c'è la segretezza del padre ogni volta Gesù dice il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà innanzitutto questo segreto in greco ento cripto significa in un modo nascosto ancora di più nell'intimo nostro mi piace moltissimo l'espressione che Sant'Agostino usa quando parla del padre dice che dovunque noi andiamo dovunque noi siamo il padre cioè chi ti ascolta che è il padre è dentro di te non è fuori da noi è dentro di noi il padre davvero vicino a noi dentro di noi quanto è importante prendere questa coscienza perché noi quando preghiamo quando noi ci apriamo a lui prendiamo coscienza che è accanto a noi e noi ascoltiamo le parole sue che sgorgono che sgorgono dal cuore nostro dall'intimo ma al tempo stesso siamo anche ascoltati da lui che è dentro di noi vedete che oggi in questo inizio del capitolo sesto abbiamo due vie allontanarci dall'ipocrisia dalle maschere dal fare dei gesti di fede per protagonismo per innalzare noi stessi invece innalziamo solo Dio e dall'altro aspetto accogliamo questo padre che è dentro di noi e non ci abbandona mai e le diciamo grazie oh Signore grazie per questa parola che sazia il mio cuore sazia la mia carne la mia sete di te oh Dio ti voglio benedire e innalzo il tuo nome sopra ogni altro nome aiutami oggi ad essere in te aiutami oggi a sperimentare la presenza tua che non mi abbandona che è una presenza delicata di grande amore aiuta mio padre ad avere un cuore che si conforma alla tua promessa per me a te la gloria nei secoli dei secoli amè cari amici lo slogan di oggi è ascolta il padre tuo che è dentro di te ascoltiamolo seguiamolo e sappiamo che lui ci ascolta dal nostro cuore e nel nostro cuore e ci guida per la giusta via grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao parla signore perché il tuo servo ascolta parla mio signore ti ascolto ti ascolto per la giusta per la giusta per la giusta per la giusta Grazie a tutti.